Ci siamo pronti, allora Pachito ci ha preparato tanto sushi fatto in casa di cui trovate il video sul nostro secondo canale per prepararlo, buonissimo vero Nancy? E adesso noi dobbiamo... Che è questo? Questo è un uomo poverino abbandonato e sono quelli che servono a noi, cioè noi con la scusa che gli abbiamo chiesto a Pachito un po' di sushi A me servono solo unigiri per fare la sushi challenge e lui ci ha preparato tutto questo ben di Dio, anche la tartare con il salmone e l'avocado Adesso quindi ci registriamo io e Nancy questo video spettaculoso della sushi challenge e un altro video, sempre un'altra challenge, sempre per il mio canale e per il canale di Nancy Con la scusa della challenge ci strafoghiamo un bel po' di sushi Ciao ragazze, eccoci qua con un nuovo video Io e la Nancy siamo qua per fare un video troppo troppo bello Challenge! Sushi challenge! Nighiri, nighirone, troppo bello, fatto da Maghito Fatto da Maghito, è bellissima, voglia di mangiare, come si è a capotta, va bene Comunque, 5 ingredienti cattivi, diciamo tipo la marmellata, il cacao, robe schifoso, e 5 ingredienti buoni tipo che ci stanno bene tipo la wasabi La wasabi a me non piace nemmeno, figurati, a me anche i ingredienti buoni, non mi caccio Iniziamo subito a pescare i bigliettini, tanti like per il video con Nancy e Carlita e mi raccomando dopo aver visto questo video come sempre volate sul canale di Nancy perché anche la troverete una challenge Ci sono i gatti che fanno casino, una challenge, un video super divertentissimo sul canale di Nancy, una challenge da paura, quindi andatelo a vedere Allora iniziamo, inizio prima io che dici? No te lo scelgo io dai Ma come? Mi scelgo sicuramente uno cattivo, dai allora Almeno che voglio essere attetice del mio destino Salve di soia, chiedi? L'unica cosa che mi piaceva Vai A me è l'unica cosa che mi piace Uff, si è a capotta però, vabbè Ok vai Vai pesca tu Non mi piace già sto fatto Che mi è uscito? Vai No, salsa curry Dai te la sei cavata No, nemmeno mi piace questa salsa curry Vai 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 Madonna Ce l'ho dura Non lo fermo Non lo fermo Non lo fermo Io vado avanti Uuuuh no mi è uscito uno bruttissimo, non c'è secca un canale Mi penso che è stata sfortunata, guarda che è uscito Yogurt di soia Yogurt di soia Ragazze Cioè vabbè Metto lo yogurt di soia Di soia Buonissimo il sushi con lo yogurt Di soia Ok Guarda è verde questo yogurt Ma che gusto è? È giusto wasabi Lo yogurt a wasabi dai No al pistacchio Ragazzi io vado Uuuuh Sì Eh Yogurt al pistacchio Yeah ma dai Ma vieni La mia solita fortuna Nooo Yogurt di verde aloe vera L'aloe vera Sì Sì C'è stata paura ragazze Vai Ora vado io Wasabi Eh credimi Tu mi piace dai Te lo odio wasabi Wasabi tanto wasabi Io lo metto io Non potevo uscire a te che ti piace Te lo metto io perchè tu Per come se sti giochi sti salsi così E che la resiste Mi fanno sempre male Certo Vedite basterà Nooo Oh my god Oh my god Allora vieni aaa No è troppo No Allora mia Che poteceva Ma dai qua No Guardiamo da qua Guarda che c'è sulla mano Tutto sals Allora io vado Ma come buzza wasabi Avocado è vero No non è giusto Questo non è giusto ragazze C'è salsa di soia Avocado Tutti e due Avocado Avocado Ecco qua decidi di avocado Che ci stanno Facci l'olio di soia È fattibile Dai L'olio di soia L'avocado Lo mettiamo sopra Un abbondante Che mi piace molto Vado io Ma non vedo l'ora di mangiarlo Mi sta venendo buo Spero non mi esco No vabbè No è truccato sta challenge Tabasco La cosa bruttissima Giusto ragazze Super piccante Io odio il piccante ragazze Io odio il tabasco Cioè mi è uscito Vedete la bomba Salsa curry Wasabi E la vita ama Il tabasco Dai ne metto poco No Ma il succhino ragazze Lo faccio appuntare Ragazze a me mi sta venendo troppo carino Spero che non mi esca il cacao Se mi esce il cacao me lo rovino Speriamo che mi deve uscire qualcosa di brutta Una madbellata No dai Cantiva Pure a te uno brutto Nooo L'aceto Che schifo Ma pure sei fortunata Perché l'aceto buona la bella Se l'aceto non muove E ti passa di sole Dai Mettete un po' di aceto balsanico Offa A te tutti migliori Guarda super piccoli Dai Sì Maccano due Speriamo che c'è il cacao a Nenzi Che gli piace il seccolato Cacao a Nenzi Dai Cacao Cacao Noo Marmellata Noo Marmellata Meglio Wow L'effetto alla marmellata Ciascuno E quindi a me ovviamente Se ne è uscita la marmellata A me è scelto Cacao Guarda te lo sei rovinato Perché a te ne era proprio male Guardate a me era perfetto Questo negiri Questo cacao sopra Mi ha rovinato tutto Vabbè Io invece la marmellata mi dà quel tocco di dolce che mancava Tra questo piccante bomba che c'ho Che schifo E' vero Forse quando Può essere che toglie l'effetto no Vabbè questo è un video Che schifo questo cacao E' che è mio Guarda il mio A te sembra dolce C'è un dolcino Guarda il mio Fatti di chili dolce Aspetta che ti guarda la vicina Guarda queste meraviglie No vabbè questo è spettacoloso ragazze Sushi a cioccolato Sushi a cioccolato Sushi La piramide di Sushi cioccolato Questo è un schifo completo Che cos'è sta mamma? Ma guarda Indescrivibile E' una bomba piccante E' yummi Non lo dici di ummi Hai ummi No Eccoci pronti Da che te Da che te alla mano Siamo pronte Certo che ci vogliono Ma che? Che abbiamo da ridere? Questa è schifo sta roba Adesso mi puoi mettere Odora E' cacao E' sempre con cacao Guarda il mio Lura No no Guarda il mio Guasabi Questa salsa camera Ti giuro No Tutto in bocca No no C'è paura! Dai, ti faccio tutto in bocca! Metti tutto in bocca! Dai! Uno, due! Io mi sacrifico, ragazze! Mettetemi un like! Mi sacrifico! Dai! Ragazze! E' schifata! Mi staggiava una cosa così schifata! Cioè, primidi! Sì, ragazze! Ma è merata piccante! Ho messo cacao! Sto cacao con l'aceto! Mio Dio, ragazze! Ma hai fatto la challenge così schifata? Mi devo riprendere il sole di un bere un po'! Non so se riuscirò mai a mangiare il sushi! Ragazze! Adesso facciamo l'altra video challenge per il canale di Nancy dove vomiteremo del tutto! Lasciateci un like per il nostro coraggio! Noi vi vogliamo tanto tanto bene! Soprattutto perché ci consigliate quelle challenge! Troppo bene ragazzi! Mi amiamo! Grazie! 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 Grazie sicuro! E lasciateci altre richieste di challenge nei commenti! Sempre così bene! Vi vogliamo tanto bene! A parte gli scherzi! Buona giornata! Ciao! 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 Grazie a tutti.